Ciao a tutti da Vittorio, il calciomercato della Lazio dipende da un solo giocatore, secondo me. Tutto un giocatore potrebbe sbloccare il calciomercato della Lazio e ne partiamo in più in dettaglio in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, prima di tutto ho letto tutti i vostri commenti sul mio video sulla lettera di Simone Inzaghi e mi piace vedere che il 99% di voi che avete scritto sono in sintonia su quello che ho detto io. Sostanzialmente gli anni di Inzaghi e la Lazio non verranno mai dimenticati, però il modo in cui si è lasciato è stato pessimo e questa lettera è stata veramente un tentativo, un po' così, di cercare di salvare Baracca Burrattini. Secondo me non ci è riuscito e voi condividete con me, per cui grazie, vi avevo promesso che avrei letto tutti i commenti e l'ho fatto. Parliamo però di calciomercato, perché, se lo sapete benissimo, in questi ultimi giorni si parla tantissimo di calciomercato, se ne parlerà tantissimo tutta l'estate del calciomercato della Lazio. Al momento la Lazio, come un po' tutte le squadre Serie A, non ha ancora fatto un reale movimento, perché Kamenovic era stato bloccato già a gennaio. Perché? Perché è tutto fermo? Beh, perché ovviamente la pandemia ha limitato fortemente i movimenti delle squadre di calcio. Tutte le squadre di calcio, quasi tutte, hanno chiuso con forti debiti, penso alla Juve, al Milan, all'Inter. La Lazio, vi ho detto, ha un bilancio positivo, ma non ci sono quei soldi che permettono di fare un calciomercato come vuole Maurizio Sarri. Purtroppo la Lazio ha chiuso il bilancio inattivo di un paio di milioni, ma non ci sono le cifre per fare il calciomercato che la Lazio vorrebbe fare. E per questo il calciomercato è legato all'uscita. La Lazio è prima di fare l'uscita per poi rinvestire tutto e andare a comprare quei giocatori che vuole Maurizio Sarri. E il giocatore in uscita è uno, è il Tuku Correa. Maurizio Sarri ha parlato con Iglitare e ha blindato, diciamo, i campionissimi. Luiz Alberto, Mikkoj Savic e Ciro Immobile, oltre ad Acerbi. Il sacrificabile è Correa. Correa che dovrebbe avere un mercato e con i soldi da scezione di Correa la Lazio dovrebbe andare poi a prendere i vari giocatori richiesti da Maurizio Sarri. Correa che, curiosamente, sarebbe un giocatore che si adatterebbe bene al 4-3 di Maurizio Sarri. Eppure la Lazio ha dovuto scegliere un giocatore da sacrificare e, diciamo, ovviamente, visto anche il rendimento di Correa negli ultimi anni, ci sta che è sacrificato sia lui anziché Minikoj Savic, Luiz Alberto o Immobile. Ci sono state tante chiacchiere su Correa negli ultimi giorni. Io ho fatto un giro di telefonate ai miei ex colleghi, contatti, perché vi ho già fatto un video su Correa all'Arsenal e vi ho detto che l'Arsenal non ha fatto nessuna offerta. Quello che ho scoperto è che la notizia è uscita dalla Lazio. Sostanzialmente la Lazio ha chiamato i vari giornalisti laziali dicendogli che ci è arrivata un'offerta per Correa all'Arsenal, 20 milioni, a noi non bastano, ne vogliamo 30. L'Arsenal non ha mai confermato di aver espresso interesse per l'Argentino. Perché la Lazio ha fatto così? Beh, secondo me è chiaro, no? Perché fa uscire la notizia che Correa è ricercato dalla squadra in modo tale che chi veramente vuole Correa capisca che ci sia urgenza e faccia subito un'offerta per l'Argentino a quella cifra chiesta dalla Lazio, per cui 30 milioni di euro, in modo tale che la Lazio riesca subito a piazzare Correa e poi possa iniziare il proprio calciomercato. Per cui la notizia è uscita dalla Lazio perché appunto questo, per segnalare che il giocatore è sul mercato. Chiamare le altre squadre e dire siete interessate a Correa farebbe immediatamente calare il prezzo. Uscita la notizia così invece è un'altra cosa. L'Arsenal si dice sia tornato alla carica, io sono molto dubbioso e l'ho spiegato nel video di Correa all'Arsenal il perché. Sembra che il Tottenham invece sia pronto un'offerta. Sappiamo che Paratici adora Correa, sappiamo che Paratici aveva fatto un'offerta lo scorso anno quando era la Juve per Correa. L'offerta che fu rifiutata perché era praticamente un prezzo di due anni e dopo due anni la Juve avrebbe pagato Correa. Però sappiamo che Paratici ha un'adorazione per l'Argentino e quindi magari il Tottenham veramente potrebbe fare un'offerta nei prossimi giorni per Correa. Tante altre squadre sono interessate all'Argentino che abbiamo detto grandissimo talento, abbiamo visto purtroppo però che fase conclusiva non benissimo. Però ci sono squadre dove Correa potrebbe fare molto bene. Quindi la Lazio spera di piazzare subito Correa, magari la vetrina della Coppa America aiuterà la Lazio a vendere l'Argentino a un prezzo buono per poi scatenarsi dal punto di vista degli acquisti e andare a prendere quei giocatori che ha chiesto Sarri. Per il momento, vi ripeto, un'offerta ufficiale a Correa non è arrivata, però vi dico che sarà lui il sacrificato e sbloccherà il calciomercato della Lazio. Prima esce Correa, poi arriveranno gli acquisti da Lazio. Questo è come andrà il calciomercato della Lazio. Per il momento, vi ripeto, vi ripeto, vi ripeto, vi ripeto, vi ripeto.